Sono Michele Castro e arrivo da Udine. Ho aperto questo corso tramite un annuncio su Facebook e ho deciso di partecipare perché ero curioso di conoscere le marche. L'ho trovato molto utile e sicuramente mi servirà per migliorare i miei testi futuri. Allora le marche mi hanno sorpreso perché sono un territorio molto vario e lascia spazio all'immaginazione perché queste valli si alternano quindi tu non sai mai cosa c'è dopo oltre. Hai la curiosità di andare sempre oltre. Il RIC è un borgo veramente carino e è bello perdersi tra questi vicoli qui dove si può camminare si torna allo stesso punto senza accorgersene. Le marche per me sono davvero un posto da scoprire. Grazie. 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 Grazie.